No, prendi qua, così prendi... no, prendi qua lo stadio. Eccoci, siamo qua a Frossinone e abbiamo mister Pocasci, ma ancora la chiami quella là, a quelli là, a Perugia? Finché ho il contratto con la Ternana, sempre. Voi siete quelli là. E dopo invece? No, scherzi a parte. C'è questa sana rivalità e io sono un professionista, è normale che per me la Ternana rimarrà sempre la scuola del cuore. Andrò anche a allenare a Madrid, la Ternana è la Ternana, quindi per voi di Perugia fatevi una ragione. Senta, e oggi? Cioè che campionato sta facendo il Perugia? Beh, sta facendo un campionato... per me il Perugia con la squadra che ha poteva fare molto di più. Poteva fare molto di più, però siete partiti bene, poi avete avuto una pressione, cambio di allenatore e poi state rivacchiando. Siete più fortunati di noi, perché voi le partite all'ultimo le vincete, noi le perdevamo, quindi c'avete un po' più di fortuna a Perugia. Va tutto là. Sai che si è fatto parecchi nemici a Perugia? No, il calcio è bello. Se non ci fossero persone come me il mondo sarebbe piatto. Quindi pensa che è noia se tutti parlassero bene di tutti. Invece pensa che è bello. A Terni si parla male di Perugia, è uno spettacolo. Il futuro di Perugia esce con cinque anni di contratto? Beh, ho cinque anni di contratto con la società e a breve parleremo con la proprietà e vedremo che succederà. E la Ternana? La Ternana è una grandissima squadra. Si salverà perché lo merita il pubblico, la città e i ragazzi sono eccezionali. Oggi hanno un allenatore di primo ordine e quindi secondo me troverà lo spunto perché anche se è una piazza dannata, perché è una piazza dannata magari da tante situazioni, sicuramente è una piazza di calcio e che il popolo Ternano merita e su questo lasciatemelo dire, è migliore di voi perugini. Questo lo dice lei. Un'ultima cosa, con chi gioca oggi il Frosinone? Il Frosinone oggi gioca con quelli là, naturalmente. Non mi ricordo come si chiamano quelli là, perché è giusto che si chiamano quelli là, finché sarò della Ternana. Arrivederci e grazie.